Ma ragazzi, sono dei orti, non fotti con la gang. Andiamo a prendere la bici, dai. Speriamo che non mi si scarica mentre la utilizzo, che cazzo prendo questo? Niente, ci vediamo qui in giardino mentre la via la bici. Guardate che... che stile. Oi, ba! Guardate che stile. Guardate che stile. Porca trovia, porca trovia. Ah di, così un po' di pressione la toglie. Doppio lavaggio. Solo che se devo fermare l'acqua. No, no, si allarga di più. Scoppia, scoppia. Porca puttana. È esploso. Bene, meglio. Avevo la GoPro con la memoria piena. Quindi non ho registrato e non so fino a quanto ho registrato. E adesso... Proverò una soluzione per attaccare il cellulare alla pettorina. Allora, adesso gli do una... Un'asciugata molto, molto soft. E basta. E basta. E basta. E basta. E basta. quindi niente raga il video era finito commentate, iscrivetevi, lasciate tantissimi like scrivetevi nei commenti se come ho ridotto la bici insomma vi piace a parte le manopole c'è su questo qui si può anche abbastanza lavorare perché guarda come sono ridotte scrivetemi nei commenti anche se il nuovo cambio vi gusta, a me un tot niente, scrivetemi se il video vi è piaciuto e iscrivetevi e niente, adesso mi cacca portare la bici così iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi